Alla vigilia di un'estate turisticamente sostenuta anche dalle nuove rotte in partenza dall'aeroporto d'Abruzzo, Treviso, Alghero, Trapani e naturalmente da quelle più classiche come Malta e Girona, il presidente della saga, la società che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo, si sofferma anche sull'annunciato allungamento della pista. Siamo in piena applicazione e attuazione del masterplan, 16 milioni di investimenti che la regione negli anni scorsi aveva progettato e in qualche modo concesso alla saga e noi adesso siamo nella fase della manifestazione di interesse rivolta alle aziende per sapere quali e quante aziende, speriamo anche quelle del territorio abruzzese, sono disponibili a fare i grandi appalti dell'allungamento della pista, oltre 7 milioni, e gli altri appalti per il sistema antincendio e le altre opere, per esempio sui parcheggi e sui silos, previste dal masterplan stesso. Alla fine di questa ricognizione, tramite questa manifestazione di interesse, noi faremo il vero bando, convocando tutte le ditte disponibili che hanno i requisiti naturalmente secondo la legge. Questo è un grande processo che in due anni porterà l'aeroporto d'Abruzzo a 2700-2800 metri di pista e avendo già fatto l'interno completamente nuovo in questi anni, sarà l'aeroporto del centro Italia più moderno, a parte fiumicino, e più adatto per esempio ai voli intercontinentali. Di questo allungamento si parla da un'infinità di tempo, è la volta buona? Sì, certamente, noi siamo stati nei tempi, ovviamente io stando qui da circa tre anni, quando sono arrivato ho ridotto i tempi al minimo d'accordo con la regione, in modo tale da chiudere se tutto andrà bene, aprendo oggi, fra due anni. Enrico Paolini ha un mandato in scadenza, dopo tre anni appunto, il 28 giugno se non ricordo male. Qualcuno si è fatto avanti per chiedere una disponibilità per un eventuale rinnovo? Quello che posso dire è che noi dopo tre mandati, come tutte le società, la saga si decade, quindi nessuno ci toglie o ci mette. Ovviamente, siccome prevediamo l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio, per motivi tecnici, il 28 giugno, presumibilmente io il 28 giugno, anzi sicuramente io il 28 giugno decado. Non avendo avuto nessuna richiesta di nessun genere, deduco che non ci sia una riconferma. Non le chiederò se sa già chi arriverà al suo posto, è probabile che ci sia un'assegnazione anche che tenga conto di appartenenze politiche. Le chiederò a quella persona, lei che cosa si sente di dire? Guardi, io credo che la Regione è il socio di maggioranza in questo aeroporto. Io quello che posso fare o che potrò fare al momento in cui ci fosse una rotazione, mettere a disposizione, come posso dire, ciò che ho imparato qui e ciò che ho fatto per rendere l'Abruzzo protagonista e fare in modo che l'aeroporto, oramai nuovo e completamente rilanciato, non torni indietro. Il mio ruolo di manager pubblico finisce il 28 giugno. Occorre un manager per servire l'aeroporto e gli abruzzesi? Secondo me sì, ma naturalmente ognuno ha le sue opinioni. Io ritengo che se il manager pubblico, oramai nelle società pubbliche, sia indispensabile se le società pubbliche non vogliono diventare dei carrozzoni inutili o addirittura dannosi.